Aurora Ramazzotti. In questo momento, si trova a Liguria per il matrimonio di uno dei suoi cari amici. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non è stata un invito come gli altri ma una vera. Damigella. L'influencer. Sabato 1 luglio. Ha pubblicato molte stories UL suo profilo Instagram. Ma non aveva ancora rivelato il suo aspetto. Lo ha fatto nelle immagini che ha pubblicato un po' di tempo, fa insieme al suo ragazzo Goffredo Cerza. Michelle Hunziker nonna. Allattando Cesare con la bottiglia non potrei essere più felice di così Michelle Hunziker. Relax relax è bello tornare a letto le storie di Instagram di Aurora Ramazzotti abito verde d'acqua. Scialle di crema. Capelli sciolti e trucco leggero. Era così vestito Aurora Ramazzotti al matrimonio del suo amico che è stato celebrato oggi. Sabato 1 luglio. L'influencer pubblicato solo gli scatti della cerimonia religiosa. Tra cui anche un breve video di quando sposa attraversa la nave. Aurora ha menzionato sua amica e. Scritto o pianto. La figlia Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Proprio stamattina. Avevano spiegato ai suoi milioni di seguaci che aveva affidato il suo piccolo Cesare alla cura. Attenta e amorevole sua nonna. Nonna Michelle con Cesare nel frattempo. A Milano. Michelle Hunziker si sta prendendo cura del suo amato nipote Cesare e ha recentemente pubblicato. Una storia in cui lo allatta con la bottiglia e scrive non potrei essere più felice di così. Ultimo aggiornamento sabato 1 luglio 2023. 2110.